Ciao a tutti, bentornati su Viaggio col Tubo, secondo video da Malaga e dall'Andalusia. Sempre il soggiorno, ci siamo ributtati nella festa dopo questa filatura di quest'anno e adesso stiamo bevendo qualcosina. E direi di buttarci nel casino. Andiamo. Dove vi una foto con te? Si. Hola. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti